Come ha ben detto uno degli obiettivi del fondo pensione è proprio quello di mantenere inalterato il tenore di vita al pensionamento e quindi è una riflessione importante che anche i giovani devono iniziare a fare fin da subito. Certo, in questi ultimi due anni nonostante il periodo di emergenza sanitaria abbiamo avuto un incremento molto significativo di iscritti, questo perché va detto che la cultura del risparmio è un concetto, un principio molto forte dei Veneti, esiste una vera cultura e attenzione al risparmio. In questi ultimi due anni, dove c'è stato un incremento di più di 10.000 iscritti, abbiamo visto come gran parte, ma più di prima, più del passato, sono giovani sotto intorno ai 30 anni. Quindi questo significa che anche il giovane che originariamente vedeva la pensione molto lontana e comunque era disinteressato a questo tema, oggi come oggi inizia a capire due cose. La prima è che la pensione lontana potrà subire delle riduzioni, come è probabile, come è avvenuto, per esempio se pensiamo nel periodo del passaggio dal sistema retributivo al contributivo, ma anche perché è probabile e dalle nostre interviste ed emerso, anche perché magari il giovane vuole costruirsi un percorso previdenziale anche per uscire un po' prima dal lavoro e magari dedicarsi ad altre attività che a lui possono essere di interesse e quindi godendo comunque di una pensione. Oppure, nel caso in cui c'è la perdita del posto di lavoro, c'è una discontinuità che avviene del posto di lavoro perché andiamo sempre incontro a periodi dove i giovani entrano in una struttura, in un'azienda, ma molto probabilmente poi finiranno il loro percorso lavorativo in un'altra azienda, avendone cambiata più di uno, anche con dei periodi di non lavoro. Quindi questa pensione integrativa, questa pensione complementare li aiuterà e questo è un fatto molto positivo anche dal punto di vista sociale.